Macabro rinvenimento oggi intorno alle 12 lungo i binari tra Castel San Giorgio e Rocca Piemonte. Ci troviamo all'altezza di via Schiavone, proprio sull'attraversamento ferroviario che collega il comune di Castel San Giorgio a quello di Rocca Piemonte. Questa mattina alcuni operai delle ferrovie dello Stato impegnati in alcuni lavori di sistemazione della tratta hanno fatto un macabro rinvenimento in questo canale che potete vedere che corre lungo i binari. Qui è stato rinvenuto il cadavere, ma possiamo dire lo scheletro, presumibilmente di una donna anziana. Con molta probabilità potrebbe trattarsi della donna di 74 anni scomparsa lo scorso 17 settembre del 2016 proprio da Castel San Giorgio. Sul posto i carabinieri della stazione di Castel San Giorgio, la protezione civile, il magistrato Lenza che ha autorizzato il trasferimento dei resti presumibilmente di questa donna. Attualmente sono stati trasportati al vicino cimitero di Castel San Giorgio. Le indagini proseguono per accertare l'identità della donna. Il 17 settembre del 2016 a scomparire e da allora non si sono avute più notizie fu Caterina Perroziello di 74 anni. Dopo un anno fu aperta anche un'indagine giudiziaria, si indagava per omicidio colposo. Questo ritrovamento potrebbe chiarire le cause.